Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e siamo qui per una nuova top 10 e questa volta sarà di personaggi maschili iniziamo subito con la posizione numero 10 e se non conoscete questo personaggio vi siete persi oltre al migliore scolastico me fatto uno dei più geniali pervertiti della storia che il mondo ricordi se nel numero 10 Kimuga Sensei di Yasumanga Dayo che dire perché questo personaggio è qui beh, ha il suo motivo di essere qui e il suo motivo è perché è un pervertito assolutamente geniale scusate ma c'ho la realtà che quando mi sente parlare deve venire vicino a me è un pervertito geniale fa l'insegnante in un liceo per cadere le ragazze liceali ha una moglie e una figlia che se ne fregano che lui stia facendo la corte a una studentessa lesbica voi capite che questo personaggio è un fottuto genio un genio un genio passiamo oltre alla posizione numero 9 in cui troviamo in una foto veramente di grandi dimensioni Jun Sakugara di Rose and Maiden perché l'ho pensato solo nonostante adori questo personaggio beh, principalmente il motivo è perché la sua utilità nella serie relativa diciamo che è utile per quello che fa però è anche inutile perché non combatte cioè, dà energia a 5 vabbè, c'è, ah, i poteri di Rose non le puoi ripagare infinite volte però alla fine la sua utilità è quella non è che fa altro nella serie diciamo, è nono, non perché non mi sta simpatico ma perché fa poco fa poco nella serie e anche l'ottavo capirete che è un po' simile a lui perché abbiamo Negi Springfield di Negima questa è l'unica immagine che ho di lui perché è l'unica figa cioè è un bambino di 10 anni alla fine non è che si ha tutta questa epicità a parte quando diventa Super Saiyan lì è figo però non ci sono immagini troppo decenti quindi ho presso questa, direttamente dal volume numero 29 colorata nella sua forma demoniaca voi capite che questo personaggio come tutto il mando di Negiima è strano perché c'è all'inizio solo tizie nude poi solo sentimentalismi in cui veramente non riuscivo a leggerlo andrò avanti per inerzia poi arriva la parte figa quella dove si menano di santa ragione tutto il tempo e lì mi è andato simpatico come personaggio veramente percepivo che era figo alla fine poi dopo l'hanno rovinato col finale secondo me ma non sono qui per fare le spoiler quindi posizione numero 8 Negi Springfield per l'epicità mostrata nella seconda parte del mando posizione numero 7 ragazzi cogliomi della serie di monogatari alla fine non è che abbia vabbè ci siamo capiti perché l'ho piazzato solo settimo? non perché non sia figo ma perché non combatte è un pippone c'è potente di vampiro usali mena combatti uccidi no lui preferisce non farlo è figo ci sa fare con le parola ha salvato tante persone però crebio combatti ogni tanto fai vedere che sei potente per questo l'ho piazzato solo settimo non combatte diversamente dalla posizione numero 6 che è Satwaio dico ero a zombie da su quanti ricordi quest'uomo lo zombie più pompato della storia e se lo dico io fidatevi che è vero che di zombie me ne intendo cioè perché è sesto perché è un gran figo combatte e porta la sua potenza mille per cento il suo maestro è una motosega parlante vive con tre ragazze di quei due veramente inutili e che le odiate tutta la vita e continua ancora a odiarle quando combatte combatte con la gonna vestito da donna non c'è un motivo per spiegarlo lo sapete perché qua è un gran figo quest'uomo è un gran figo nessun'altra ragione passiamo ora a metà classifica con la posizione numero 5 occupata da Arata di Trinity Seven principalmente anche lui è un figo combatte combatte sa vuole combattere questo io lo apprezzo perché è prima di Aimo ovviamente perché è un pervertito e non è fiero di esserlo e questa è una cosa buona è questo che lo rende epico perché è un pervertito e non è fiero di esserlo e combatte fa il figo difende il suo harem poi dai la bella pistolona così meritava almeno il quinto posto almeno e al quarto posto se avete capito che i pervertiti di cui vanno fieri di essere che combattono per difendere il loro aga e mi piacciono capirete anche che al quarto posto c'è il sejodo tanto rispetto perché è prima di Aimo la rata principalmente perché è più pervertito principalmente e perché combatte con le mani per intendersi a pugni quindi dico con le mani la rata alla fine spaga un mago la mia gatta ha aperto la porta che deve averla chiusa maga dell'escapologia quindi l'ho pensato qua perché quando combatte mi dà più senso di potenza uno che combatte a pugni di uno che combatte con la magia mi dà quel senso di disperato attacco di disperata forza combattere con tutto quello che si ha le mani e ora passiamo al terzo posto dove ritorna un mago in pochi penso che sappiano che questo personaggio mi va simpatico perché non ne parlo mai però sappiate che al terzo posto c'è lui lui Artur Gas di Tsugino Chai perché è qui è uno di quei cattivi che tu li ami non può starti antipatico quest'uomo uno che per ristorare nel suo corpo la bura della morte si è fatto uccidere dopo 500 anni e poi è resuscitato forse ho spoilerato il finale forse penso che tutti abbiano visto i Tsugino Chai forse doveva anche stare zitto comunque è un figo per questo se ne frega di sentimenti anzi gli servono quelli negativi porta alla guerra guardate lo sguardo se ne frega di tutto e qui perché è un gran figo non li ricattivi che tu li ami e non li potrai mai odiare mai mai bene e ora passiamo al secondo posto che penso qualcuno si aspetti questo secondo posto perché c'è lui Oshinomeme della serie di monogatari lo sapete perché qui no a parte l'epicità la figaggine del pizzetto lui è lui è la perfezione spieghiamola questa frase perché la perfezione può essere malintesa la perfezione in quanto agisce bene fa le cose talmente bene che tu non sospetti che lui le fa citazione Futurama c'è per questo che mi sta tanto a genio lui ci aiuta non aiutandoti facendoti evolvere facendoti diventare superiore migliorandoti per questo l'ho piazzato al secondo posto perché è un gran figo ora prima di arrivare al primo posto ci sono due menzioni speciali e però mi sono scordato di fare una cosa inizio video spiegare perché ci sono solo personaggi di anime sottotiturati e non anche quelli italiani passati in Italia c'è io se mi conoscete avete visto il mio canale youtube penso di sì il mio altro profilo lo conoscono gli intenditori cioè io su youtube lo faccio il profilo di Sasuke il mio altro profilo l'ho fatto su Gary Hawk o Blue per i fan di videogiochi tipo me però la gente non avrebbe mai capito chi fosse quindi come ho scritto Gary Blue così evitavo doppi sensi poi anche di Dragon Ball tipo Vegeta e Veget sono dei gran figli Goku per i fan di Goku perché c'è Kenshiro sì anche lui ha stile poi chi altri c'è Gon di Hunter Hunter perché non li ho aggiunti principalmente perché la maggior parte meglio tutti essendo passati in Italia la gente li dovrebbe conoscere se io facessi una classiera su personaggi che la gente già conosce non è invogliata secondo me a conoscere di più a vedere altri personaggi quindi mettendo solo personaggi di serie sottotitolate spero di espandere il pubblico qua intanto mi è partito lo sfondo mistico sì si deduce che sono fan del clan Uchira imposta come sfondo del desktop notare è figo dai come sfondo del desktop dunque ora che ho spiegato perché ci sono solo personaggi di anime sottotitolati passiamo alle prima delle due menzioni speciali io San Diacicocci non penso molti lo conoscano ma quest'uomo con quest'ara eterea di bellezza che lo circonda e lo affascina ha procurato più sanguinamenti dal naso lui nella sua serie di 12 episodi che tutto il sangue che è uscito dagli zombi nella serie di High School of the Dead voi capite che quest'uomo è un gran figlio fa non bagnare le ragazze gli fa perdere il sangue dal naso alle ragazze è a livello superiore per questo l'ho messo nelle menzioni speciali non sapevo dove metterlo in classifica ma doveva esserci così come la seconda menzione speciale lui Kai Ki sempre nella serie monogatari io quest'uomo sapevo che doveva essere in questa classifica lo sapevo ma non sapevo dove credetemi non sapevo dove metterlo quindi l'ho messo nelle menzioni speciali perché è qui a parte il look figo perché chiunque si veste elegante è un figo è uno dei postulati dell'esistenza umana il secondo motivo per cui è qui cioè all'inizio non mi andava simpatico era tutto quello da archiettone per i fatti suoi poi dopo ho capito la sua filosofia di vita è un genio c'è un cartesio di tempi moderni è un me per quanto riguarda la filosofia di vita quindi non potevo ignorarlo e l'ho messo nelle menzioni speciali poi a voi la scelta di mettere un posto a lui e a io nella classifica sentitevi liberi e così siamo giunti al primo posto ma intanto chi mi conosce lo sa chi c'è neanche a dirvelo c'è per esclusione è rimasto lui voglio dire non che ci voglia un geno comunque mostriamo perché al primo posto c'è lui stessa immagine della recessione di Tsurino Chaika ma c'è lui di Toro perché la gente se lo chiede uno combatte e va bene tutti quelli che combattono devono essere in questa classifica due non è pervertito quindi merita rispetto perché va in giro con sole donne e la sorella se lo vuole fare ma lui se ne frega numero tre si trasforma ecco questa cosa sono voluta tenere fino alla mia posizione perché secondo me se no si capiva Mostra perché si capiva? perché a me i personaggi si trasformano li adoro si devono trasformare i personaggi da quel senso di potenza quel senso di epicità si trasformano non è pervertito combatte cosa volete di più dalla vita ma cia ciaica doveva essere primo doveva bene direi che possa bastare tanto avete capito perché ho messo ogni persona nella sua posizione poi a voi la scelta dei due come ho già detto prima delle due delle dimensioni speciali adesso è compito la guerra da bestia e con lei hanno Mangekyo Sharingan di Sasuke che vi osserva in questo ipnotico sfondo nero ho scoperto l'utilità dello sfondo nero del pc per far riaprire più figo questo sfondo direi che ci vediamo con il prossimo video che sarà l'aggiornamento della top 10 delle waifu perché l'ho aggiornata ci sono delle sorprese 5 nuovi personaggi menzioni speciali anche lì e lasciate un commento con quello che pensate di questa classifica e arrivederci a